Dal mese di maggio 2023 i bollettini mensili relativi al patrimonio immobiliare del Comune si pagheranno con PagoPà. È il nuovo sistema di pagamento elettronico verso la pubblica amministrazione al quale il Comune di Napoli sta effettuando il passaggio nel rispetto della normativa vigente. Per consentire gli aggiornamenti tecnici dal prossimo 21 aprile non sarà più possibile effettuare pagamenti sui attuali conti correnti postali né tramite bonifici e bollettini. Ad aprile gli utenti non riceveranno il bollettino di maggio che sarà recapitato alla fine del mese con scadenza pagamento a giugno 2023. La sospensione temporanea della bollettazione interesserà i canoni locativi, le indennità di occupazione, i rateizzi delle morosità e i ratei di pagamento della dismissione. Utilizzare PagoPà è semplice. In bolletta ci sarà un avviso di pagamento da effettuare tramite canali fisici, banche e uffici postali oppure online attraverso il proprio home banking o quello di altri prestatori di servizi di pagamento. L'elenco completo degli operatori e dei canali abilitati a questa modalità di pagamento è sul sito pagopa.it.